Vi presento il nuovissimo kit Pure Teenskin. Ai clienti giovani che lottano contro i brufoli, punti neri e impurità, non lasciare che la pelle dei tuoi clienti adolescenti diventi una battaglia quotidiana. Abbiamo formulato lo straordinario kit Pure Teenskin, dalla profumazione gourmand al pistacchio. L'adolescenza è un periodo di grandi cambiamenti, divertimento e purtroppo anche di quei fastidiosi brufoli. Ogni teenager si trova a dover affrontare queste sfide cutanee e noi siamo qui per aiutarti a offrire loro una soluzione efficace e naturale. Ma perché scegliere il kit Pure Teenskin? Questo kit è stato pensato con tre prodotti essenziali che lavorano in sinergia per una pelle luminosa e purificata. Ogni prodotto è arricchito con ingredienti naturali e biologici, come ad esempio l'estratto di tè verde e l'estratto di cetriolo, che offrono proprietà rinfrescanti e dermopurificanti. La mousse viso detergente, soffice come una nuvola, è il primo passo essenziale per una detersione profonda e delicata. Con una deliziosa fragranza di pistacchio, lascia la pelle fresca, morbida e perfettamente pulita. La crema viso e la maschera viso invece contengono la clorofilla, che conferisce una colorazione verde alla texture. Tra gli attivi troviamo la niacinamide, che aiuta a regolare la produzione di sebo e illuminare la pelle, l'olio di mandorle e il burro di karité, che mantengono la pelle idratata e luminosa. La maschera viso è arricchita inoltre con caolino e argilla like, purifica e rimineralizza la pelle. Il caolino è ricco di minerali come magnesio, calcio, sodio, potassio, ferro e alluminio e offre proprietà assorbenti e antiossidanti, mentre l'argilla like migliora la carnagione e contrasta alle imperfezioni. Il kit Pure Teenskin è l'idea regalo ideale per chi desidera una pelle perfetta e senza imperfezioni. È un trattamento completo che farà felici i tuoi giovani clienti, permettendo loro di affrontare la quotidianità con una pelle radiosa e priva di imperfezioni. Noi te lo personalizziamo, guarda com'è facile!